Le nostre vite non sono definite da una singola azione. Le nostre vite sono la somma delle nostre decisioni. Tutto ciò che lei è stato, tutto ciò che lei ha fatto, ha portato a questo. Quando il bisogno di certezza è assoluto, quando farcela sembra impossibile, la missione ricade su di lui se deciderà di accettarla. Per ogni vita che hai cercato di salvare, ne hai rischiate milioni di altre. E ora è il destino di ogni essere umano sulla Terra. E' nelle tue mani. E' questo lo schema, vero? Lei rifiuta di sacrificare coloro che ha più a cuore. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Io non ho rimpianti. Non averne tu. Devi fidarti di me. Un'ultima volta.